Sono Rosario, un funzionario tecnico del Servizio di Opere Stradali e Ferroviarie della Provincia Autonoma di Trento. Il mio lavoro mi ha permesso di crescere professionalmente e come uovo. Ho collaborato alla realizzazione dei più grandi progetti stradali del Trentino e provo orgoglio ogni volta che transito su quelle strade, ponti e gallerie. Lavorare per questo bellissimo territorio è per me un onore. Partecipa anche tu ai concorsi della Provincia Autonoma di Trento. Cresciamo insieme! Grazie a tutti!